Qui riusciamo a leggere perfettamente la stratificazione che si forma quasi 6 milioni di anni fa durante ciascun anno. La parte bianca è la deposizione durante l'estate e questa parte più scura è la deposizione durante l'inverno. Quindi siamo in grado di contare gli anni che sono passati necessari per deporre tutta questa sequenza di sale.